E' atterrato all'aeroporto di pratica di mare, l'aereo proveniente da Wuhan, con a bordo Nicolò, lo studente 17enne di grado, costretto due volte a causa della febbre a restare nella città cinese da dove si è diffusa l'epidemia di coronavirus. Ad accoglierlo all'aeroporto il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che ha spiegato che con oggi è stato completato il processo di evacuazione di tutti gli italiani che volevano rientrare, dopo i 64 tornati a casa dalla Cina nelle scorse settimane. Nicolò è già stato ricoverato all'Istituto Spallanzani di Roma, dove dovrà completare il periodo di isolamento.